Nel 1955 Fiorenzo Magni vince il Giro d'Italia con il suo aiuto a spese di Nencini e Coppi si scusa con Nencini in questo a tu per tu realizzato a suo tempo da Sergio Zavoli. Senza freni! Caro Nencini, so che è un momento amaro della tua vita sportiva essere maglia rosa a due giorni da Milano e poi doverla perdere pure onorevolmente come l'hai persa tu ma cosa vuoi, sei tanto giovane, tu pensa io ho 36 anni, forse il mio ultimo Giro d'Italia ho corso anch'io per vincere e non ci sono riuscito ti auguro in avvenire di essere sempre perlomeno grande come in questo Giro e le occasioni non ti mancheranno. Grazie Fausto, queste parole mi fanno bene specialmente perché me le dici tu se le dolomiti aspettavo sempre da un momento all'altro te ne andassi e ti portassi via la mia maglia rosa quando sono arrivato a Trento con te mi sembrava proprio di avercela fatta ma poi quella foratura quando eravamo noi tre insieme mi ha portato via tutto non traprendere per quello che è successo oggi a me sono giovane e anche perdendo ho imparato molte cose che mi serviranno grazie a tutti grazie a tutti